Sono 30, sempre gamba Mister, come andiamo? Siamo stanchi? No L'accademia? L'accademia, bene Poi oggi mi sa che inizia l'estate Oh, come stiamo? Bene Uno spettacolo Poi oggi sto allenando il mio allievo qui Che nella vita non lo vedevo Eccolo qua Dopo verranno fatte tutte le presentazioni dovute su tutti i social Quindi adesso lo vediamo un pochettino lavorare Con Marco è come guidare di notte Perché con lui vado a occhi chiusi Lui mi riconosce E lui va in vacanza però tra poco Io però Capito?